Signore e signori, buonasera. Adesso vorrei dare un po' di spiegazione della mia voce. Mi va? No, ero padre. Allora, ho una voce di controtenore, si chiama. Mi ricordo molto bene, a Belluno, una signora è svenuta ascoltando la mia voce. E così volevo spiegare la mia voce prima, ma ho già cantato tanti pezzi, ma va bene. Allora, cos'è la voce di controtenore? Cioè, io canto sempre con la voce falsetto. Cos'è il falsetto? Cioè, la voce di, tipo, business, presente. Night female, night female. Questa cosa qua. Cioè, nella musica pop non è molto speciale questa voce, ma nella musica classica è molto particolare, diciamo. Ma, siete abituati ad ascoltare il canto di controtenore o no? No. No? Ah? Seguirà. Questa è la prima volta, forse. Ah, seconda. Ok. Ah, quinta. Oh, ok. Allora, possiamo seguire o posso spiegare anche il giapponese? No, va bene, basta a dire. Grazie. Quindi niente, prego.